In primo luogo è bene ricordare a tutti i cittadini romani che non c'è assolutamente emergenza rifiuti. Roma non ha mai avuto un piano per la gestione sostenibile dei materiali post-consumo. Noi in pochi mesi abbiamo approvato e stiamo attuando un piano che prevede l'obiettivo di raggiungere il 70% di raccolta differenziata. Quindi la situazione attuale di criticità sarà risolta in pochi giorni, ma certamente noi abbiamo ereditato una situazione impiantistica assolutamente molto fragile e quindi dobbiamo anche in termini di sistema fare una programmazione da questo punto di vista seria che è quello che stiamo facendo con il nostro piano. Quello che suggerisce Renzi è solo uno spot elettorale. I romani non vogliono più essere presi in giro come è stato negli ultimi 20 anni. bisogna buttare la maschera, dicano Renzi, il governo, la regione dove vogliono fare la discarica e l'inceneritore, perché questo è quello che vogliono.